Miglior partenza non poteva esserci per il Molfetta che nella prima uscita casalinga del 2022 archivia la pratica a Nardò con un secco 5-0 al Paolo Poli, protagonisti del derby pugliese, gli ultimi arrivati, Biancorossi in rete due volte, con Kordic nel primo tempo, gol identici da calcio d'angolo, nella ripresa dilagano Giambuzzi e Genchi, infine il pocherissimo di Jonai, Nardò mai sceso in campo, salvo buoni spunti nel primo tempo, mister De Candia deve far fronte a casi di positività e giocatori recuperati da poco, mister Bartoli non ha a disposizione Pozzebon e De Gaulle, primo tempo subito vivace, dopo pochi secondi con il colpo di testa alto di Genchi, al sedicesimo Dubaz calcio dal limite, sfiora la traversa, al ventesimo il vantaggio del Molfetta, calcio d'angolo di Guadalupi e colpo di testa vincente di Kordic e 1-0 al trentaduesimo, contropiede di Fedel, poi Genchi ci prova da fuori, traiettoria che sfiora il palo, passano due minuti e i padroni di casa raddoppiano, battuta dal corner, fotocopia della prima marcatura, ancora Kordic di testa, fa esultare i tifosi sugli spalti, doppietta e 2-0, nel finale segnali di Nardò, al trentaseiesimo Cristaldi lotta in aria e calcio in porta, debole e troppo facile per Viola che blocca al quarantatresimo, ancora Salentini pericolosi, angolo di Caputo, sponda per Cristaldi che calcia ma trova la respinta provvidenziale in corner, primo tempo in archivio con il Molfetta avanti di due reti, la ripresa si apre al terzo minuto con l'incornata di De Giorgi fuori misura di non molto, Nardò piuttosto sbilanciato e al settimo arriva il contropiede dei padroni di casa, Genchi serve in aria e il infacile facile per Giambuzzi che incredibilmente manda sul fondo a porta sguarnita, è solo questione di tempo perché il Molfetta trova il 3-0 al dodicesimo, la firma è quella di Giambuzzi che si fa perdonare seppur con un po' di fortuna, i ragazzi di Mister De Candia accusano il colpo, i padroni di casa dominano il campo, al tredicesimo destro a giro di Guadaluppi che sfiora il palo, al sedicesimo è Genchi a provarci, tiro violento respinto in angolo da Petrarca, anche Lovianize si unisce all'elenco dei tiratori al diciassettesimo, palla che sorvola di poco la traversa, al diciannovesimo arriva il poker dei biancorossi, Genchi fa tutto da solo e bene, gol e risultato in cassaforte, nessuna reazione degli ospiti e al ventiduesimo il Molfetta continua a martoriare la porta di Petrarca, prima con pane bianco, poi con Dubaz, la difesa salentina si salva in corner, al venticinquesimo Gionai da fuori aria trova l'angolo giusto per il pokerissimo che mette il punto esclamativo sul punteggio lo stesso numero 7 di casa al ventinovesimo costringe Petrarca la deviazione in angolo mentre al trentatresimo deve fare i conti con il palo che gli niega la gioia della doppietta nel finale il Nardò si rende pericoloso al trentaquattresimo ma Cristaldi e compagni non riescono a superare la linea di porta, partita che si conclude con la punizione ospite dal limite al trentanovesimo Masetti trova i riflessi di Viola, azione che sfuma, finisce così 5 a 0, nel prossimo turno il Molfetta sarà ancora di scena al Paolo Poli contro il Lavello, Nardò che proverà a rialzarsi ancora in trasferta, altro derby di Puglia questa volta contro il team Altamura Grazie 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 Grazie